Anche Confcommercio insieme agli operatori del mercato coperto di Via De Bastione a Pescara chiede al Comune di completare al più presto i lavori di ristrutturazione perché gli affari stanno colando a picco. Ai disagi legati al fatto che la vendita ormai da due settimane avviene all'esterno del mercato di zona Porta Nuova si unisce il calo delle vendite e il presidente di Confcommercio Franco Danelli sollecita la riapertura entro il 13 giugno. in una lettera inviata al nuovo sindaco Carlo Masci suggerisce una volta completata la tinteggiatura delle pareti ottenuti i necessari pareti a livello igienico sanitario e far rientrare gli operatori per poi completare gli ulteriori interventi di rifinitura alcuni relativi all'impianto elettrico nelle ore di chiusura del mercato. C'è stato un calo delle vendite? Diciamo del 60-70%. Il presidente di Confcommercio Danelli sollecita l'amministrazione comunale a ultimare il prima possibile i lavori e confidate nel fatto che questo possa accadere? Io attualmente credo di sì, speriamo di rientrare il prima possibile. E' chiaro che il rientro immediato nella struttura deve essere sempre fatto in un certo modello, cioè deve essere comunque fatto bene. Per il momento stanno ricambiando tutte le luminarie, stanno riverniciando tutta la struttura, hanno già ristrutturato il bagno e stanno andando avanti.